Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. È morto il famoso attore italiano, la drammatica notizia è arrivato pochi minuti fa. È morto un grandissimo attore, famoso per avere partecipato alle serie tv di gran successo. La notizia ha sconvolto tutti. È morto a 65 anni, dopo lunga malattia, l'attore Sebastiano Lomonaco, volto conosciuto sia al cinema che in tv ma legato soprattutto al teatro. Direttore per tanti anni del Teatro Pirandello di Agrigento e del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, tra i più profondi conoscitori delle opere di Pirandello. Nato a Floridia, in provincia di Siracusa, il 18 settembre del 1958, il diploma all'Accademia d'Arte Drammatica, le collaborazioni con Enrico Maria Salerno, Salvo Randone, Adriana Asti. In parallelo all'attività teatrale, Lomonaco aveva lavorato spesso al cinema e aveva fatto parte del cast di serie televisive di successo. Tra quelle per cui verrà più ricorda e sicuramente l'onore e il rispetto, parte seconda. Grazie. Grazie.